Palermo, Hotel Zagarella, presentazione del movimento Siamo Italiani, siamo a un bivio, si legge nella vostra brochure, bisogna scrivere un nuovo capitolo. Ecco, onorevole Lara Comi, europarlamentare. Sì, bisogna scriverlo, scriverlo tutti insieme, partendo dalla Sicilia, quindi da una regione che ha delle difficoltà e sta continuamente subendo anche delle problematiche dalla disoccupazione giovanile, dalla crisi economica, dalla crisi immigratoria, insieme con tanti amministratori, con tanti sindaci e tante persone della società civile, si scrive una nuova storia. Una storia che è con la politica per combattere l'antipolitica. Questo è il nostro obiettivo e il criterio chiave, come si chiama? Merito. Quindi il merito è l'elemento fondamentale che sarà la linea guida di tutto Siamo Italiani. Bene, c'è profumo dunque di nuova politica, politica quella vera. Onorevole Salvatore Cicco, lei ha una particolare attenzione, senza togliere agli altri, per il meridione? Ma ho una particolare attenzione perché credo che questo paese, così com'è, diviso con carrozze di serie A e carrozze di serie B, non possa competere, non possa crescere. C'è bisogno di un'attenzione e di una destinazione però di strumenti. Ci vuole un'idea precisa. È inutile che continuiamo a dire che il meridione non cresce. Il meridione non cresce perché è abbandonato, perché è isolato. Parliamo delle isole, riconoscimento della condizione di isolarietà, le zone franche integrali, la possibilità che l'energia, l'industria, il trasporto in maniera particolare, il sistema produttivo possa essere competitivo come gli altri. Allora se c'è uno svantaggio, lo svantaggio va compensato. Partiamo dall'Europa con la destinazione dei fondi, siamo nell'obiettivo transitorio, stiamo per uscire, siamo nell'obiettivo permanente ma poi i bandi di gara non riescono ad essere emanati, non c'è informazione, non c'è comunicazione, non c'è collegamento. Siamo italiani nasce anche per entrare soprattutto nel merito di queste cose. Noi vogliamo occuparci del Paese reale e vogliamo ritornare ad una politica che rappresenti una politica di risposta. Ecco, partendo dagli amministratori locali, comunali, dal territorio, gettiamo le basi per creare un'idea forte, giovane, fresca, alternativa, via i parrucconi, via le passerelle, via le situazioni di contrapposizione, via le correnti e gli spifferi. Qui occorre stare uniti. Il primo messaggio che lancio ai miei amici siciliani, dobbiamo avere rispetto ciascuno della propria competenza, della propria storia e di quello che rappresenta. Partendo da questo uniamoci, c'è un grande popolo, un popolo di centro-destra che aspetta un nostro segnale di capacità, di essere che cosa? Ruolo guida. In questo ci cimentiamo oggi insieme ad Aldo, insieme a Lara, perché vogliamo, come dire, trasferire finalmente una dimensione che dia la possibilità di attivare il meccanismo di speranza, quello che si è perso, il collegamento della continuità. Quindi noi non è che iniziamo a Palermo e dopo questo evento ci rivediamo chissà quando, riparliamo chissà quando. Noi iniziamo oggi e già da stasera siamo al lavoro per creare la dimensione di Siamo Italiani, ma che si mette al servizio, che vuole dare un contributo per unire, non per dividere. Quindi nuova politica, quella che si attendono ai cittadini, giovani, territorio. Noi abbiamo già presidente del movimento Diritto alla Città, ora portavoce, la avvocatessa Giulia Ferro. Lei conosce il movimento che già è qui presente al debutto. Sono un grande sostenitore di Giulia, sono un grande sostenitore di questo movimento. L'ho apprezzato da subito perché incarna lo stesso spirito di Siamo Italiani, o noi incarniamo lo stesso spirito di questa grande associazione, perché c'è il contatto, c'è il confronto, ma soprattutto posso dire una cosa, c'è umiltà, c'è voglia di dare capacità di stare a pari livello per far crescere chi merita. Ecco, l'Italia del merito, la Sicilia del merito, noi con Siamo Italiani partiamo da questa premessa e su questo ci giochiamo la nostra storia. E qui con noi anche l'onorevole Aldo Patriciello, deputato. Ecco, cosa significa per lei dunque questo debutto qui a Palermo del vostro movimento? Ma noi abbiamo cominciato questo tour il 15 di luglio, in piccola realtà, a un comune di 1500 abitanti, Pozzilli, e in questi due mesi abbiamo lavorato sull'intero territorio. Stiamo cercando di portare la voce nelle piccole realtà, nei comuni abbandonati, dove non esiste la politica. Se vogliamo portare un messaggio è quello di tornare alla buona politica, alla sana politica, come diceva Salvatore dell'umiltà, di avere la capacità di ascoltare, di ascoltare i problemi della gente, dei giovani, i problemi del mondo imprenditoriale, delle piccole realtà, delle piccole mete imprese che sono il tessuto portante del nostro paese, che si sentono abbandonati. Senza proclami, senza slogan, senza paroloni, vogliamo cercare di ridare voce. Riteniamo che la cosa importante oggi, e quando parliamo di tornare alla politica di una volta, ma quella buona, quando si ascoltava la gente, quando c'era un rapporto tra eletti ed elettori, noi a quello vogliamo dare voce. Vogliamo tornare a interpretare i problemi veri del Mezzogiorno d'Italia. Non ci può essere in Europa se non c'è l'Italia unita. Oggi purtroppo assistiamo, io sono un meridionalista convinto, assistiamo a un'Italia che si sta divaricando, si sta dividendo, dove c'è un Mezzogiorno sempre più povero, c'è un Nord che si rafforza, e dove tutti dicono bisogna fare qualcosa per i giovani, per i cervelli, per le realtà imprenditoriali. Poi assistiamo purtroppo ad un impoverimento, assistiamo a una realtà del Mezzogiorno che è sempre più lontana dalla parte ricca del territorio nazionale. Allora noi con questa iniziativa vogliamo ridare voce, vogliamo lavorare, vogliamo essere interpreti di questo cambiamento in positivo. Ce la mettiamo tutta, ci mettiamo l'entusiasmo, la voglia di fare e ci mettiamo quell'amore che la politica oggi ti impone, fare le cose serie e soprattutto di fare un gioco di squadra, come dicevamo, partendo dal basso, in un'unica battaglia, che è una battaglia italiana e una battaglia per il Mezzogiorno d'Italia. Bene, la presenza dunque del Movimento Diritto alla Città è molto opportuna, Giulia, e c'è una ideale coincidenza di punti di vista? Sì, noi con l'onorevole Salvatore Cicu ci siamo insomma sempre confrontati su quelle che sono le opportunità che la nostra Europa ci offre. Riteniamo che sia di fondamentale importanza creare un ponte, un ponte fra l'Europa e i giovani, l'Europa delle opportunità, l'Europa dello sviluppo, l'Europa della crescita sul campo dell'istruzione, della ricerca, dell'innovazione. Ecco, è fondamentale essere consapevoli delle opportunità che l'Europa ci offre, opportunità in termini di fondi strutturati e fondi di investimento e per farciò è necessario che siamo davvero consapevoli. Quindi insomma questo è un momento per noi di grande confronto perché siamo davvero insomma felici delle attenzioni che voi, eurodeputati, rivolgete al nostro territorio. Ecco, l'Europa è la base affinché questa terra disastrata possa ripartire ed è importante che ci sia quella buona politica, quella sana politica che sia competente, che sia capace e sia in condizioni di sfruttare queste risorse. Insomma devo dire con una nota di polemica che il governo Crocetta ha dimostrato essere completamente inefficiente e incapace nello sfruttamento di tali risorse.